Stadio Sandrini, Legnago, Trento, scontro delicatissimo tra due squadre che hanno assaporato il gusto della vittoria troppo di rado negli ultimi mesi. Legnago non vince dal 3 dicembre, ha vinto soltanto due delle ultime 11 partite disputate. Il Trento si è imposto una sola volta dal 24 novembre in avanti ed è reduce dal ribaltone in panchina con i saluti a Tedino e l'avvento di Moll Moll. Ricordato Gigi Riva anche a Legnago, prima opportunità per Vitturini che non controlla al 22esimo. Ancora Trento con il calcio di punizione di Terrani, alto sopra la traversa. La replica del Legnago è affidata a Gianni, lanciato dal primo minuto per questa sfida, prende il tempo a Ferri, arriva sul fondo, buon pallone messo dentro. Rocco non riesce a trovare il primo gol del suo 2024. Martic due volte protagonista al 32esimo, conclusione potente, deviata. Ancora Terrani dall'altra parte, prende spazio la mira però, è da rivedere. Ad inizio ripresa esce dalla panchina Frosinini, ci prova con questa conclusione da lontano. Succede ben poco nella ripresa, la miglior opportunità per Rocco. Buon controllo, il pallonetto non riesce. Anche Anastasia è un subentrato, il diagonale con il mancino finisce sul fondo. Il finale vede il Legnago in avanti, Sviderkowski, centrale per Russo. Sull'ultimo corner, colpo di testa di Martic. Quarto pareggio di fila per il Legnago, il nono nelle ultime 12 partite. Secondo punto nel 2024 per il Trento. Secondo punto nella gestione Moll-Moll.